Virtus che conferma Ortona negli allenamenti che precedono la delicata sfida a Latina, anche oggi e nella rifinitura di domani i rossoneri hanno scelto la vicina città triatica per preparare al meglio una sfida sulla quale si hanno poche alternative, bisogna vincerla per scacciare i venti di crisi. Pontini a quota 17 in classifica, reduci dal pareggio interno contro la Salernitana 2-2 il finale che scenderanno al Biondi con due assenze a centrocampo con Moretti e Marchionni infortunati. Alla guida dei Nerazzurri Mario Somma dopo l'esonero di Marchi Giuliano, intanto da Versa. Una buona squadra con degli ottimi giocatori, allenata da un grande allenatore che ho avuto anche la fortuna di avere nella mia carriera calcistica, sta adottando un 4-2-3-1, è chiaro che a prescindere dalla squadra che avremo di fronte dipende molto da come andiamo in campo noi. Chiedo comunque di cercare di far di tutto per portare a casa i tre punti in maniera lucida e serena e aumentando magari, migliorando quei piccoli difetti che fino adesso non ci hanno permesso di portare a casa i tre punti e migliorare quell'aspetto. Sotto l'aspetto della prestazione comunque di continuare sotto quell'aspetto però qualcosina in più tutti quanti per far sì che il risultato sia positivo completamente. Di Paolo Di Avezzano il giudice di gara, mentre il dado è tratto circa il recupero o meno dell'attaccante Ferrari, non sarà tra i convocati per non rischiare. Insieme a lui a Menta, bene tutti gli altri nella conferma probabile del 4-3-2-1, chissà che da Versa non proponga altre novità. Faccia lui, l'importante sarà vincere e solo quello. Da parte laziale sentiamo l'allenatore Mario Somma. Io personalmente ritengo che sia una squadra che ti può mettere in grandi difficoltà in virtù del ritmo che riescano ad avere e in virtù dell'ottima organizzazione di gioco. Perché è una squadra che ti lascia poco spazio e ti riparte sempre con grande velocità. Ho grande stima, grande rispetto, grande affetto anche nei confronti dell'allenatore. Roberto da Versa è un mio ex giocatore in due circostanze, ma al di là di questo ne giudico quello che è il lavoro sul campo. Essendo un esordiente lo scorso anno in Serie B, pronti via subito partire dalla Serie B non è una cosa facile. Lui ha tenuto il colpo benissimo e ha dimostrato di avere grandi idee e di avere grandi capacità. Quindi sono convinto che questo allenatore diventerà uno degli allenatori più importanti del calcio italiano di questa generazione, della sua generazione. Perché è un ragazzo completo, ha tutto ciò che serve per poter fare l'allenatore ad altri livelli. La società, io, lo staff, ma credo anche tutto il mondo legato al latino calcio ha la voglia di vincere. Faremo di tutto per far sì che si crei questa mentalità a 360 gradi per non commettere più gli errori che sono stati commessi. Grazie.